La Sala Rossa del Comune di Torino inizia il meeting nell'ambito del progetto Erasmus più arte por la convivencia che vede coinvolte sette nazioni Italia con Torino, la Spagna, il Portogallo, la Svizzera, la Germania e il Belgio. La Sala Rossa del Comune di Torino inizia il gruppo di Torino inizia il gruppo di Torino. Grazie per la visione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi chiamo Dea e vengo da Torino. Ciao, io sono Valerio e vengo dall'Italia. Io mi chiamo Daniele e vengo da Torino. Io mi chiamo Adilà e vengo da Comino. Io mi chiamo Alessandro e faccio la seconda D e vengo da Torino. Io mi chiamo Adilà e vengo da Torino e vengo dalla Cina. Io mi chiamo Adilà e vengo da Torino. Io mi chiamo Adilà e vengo da Torino. 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 Grazie a tutti.